L'Uomo di Larami, 1955, è l'ultimo dei cinque film girati insieme dal regista Anthony Mann e da James Stewart. È il primo film di Anthony Mann girato in Cinemascope, qualcuno magari starà dicendo ma chiesto Anthony Mann. Anthony Mann è uno dei grandi maestri del western americano, tra quelli forse un po' dimenticati, messi in ombra dai grandi maestri di cui tutti ricordano il nome, Howard Hawks o John Ford, ma che è stato già ampiamente, non lo stiamo riscoprendo noi, riscoperto dalla critica come una delle persone che erano in grado di sfruttare il western come metagenere all'interno del quale far passare anche cose più ambiziose. In questo caso l'ambizione potrebbe essere letteraria teatrale perché Mann, qualche anno dopo questo film, prima di morire, stava cercando di mettere in scena una versione western del re Lear e questo film è una sorta di prova generale, scritto, intanto è scritto da un certo co-scritto, da un certo Philip Jordan che nello stesso anno aveva firmato un film che si intitolava Macbeth Joe Macbeth, che era una versione, un aggiornamento appunto della tragedia del Macbeth e questo film racconta il crollo di una famiglia corrotta, la famiglia di un rancero che sta invecchiando, sta diventando cieco e ha dei figli cattivi e psicopatici, che diventano l'obiettivo del protagonista vero che è James Stewart. Allora che è successo? Queste persone hanno organizzato un contrabbando di fucili, questi fucili sono arrivati agli Apache, gli Apache con questi fucili hanno sterminato un reggimento di cavalleria che era condotto dal fratello minore di James Stewart, sono morti tutti, e James Stewart sotto mentite spoglie sta cercando di rintracciare i responsabili di questa vendita illegale di fucili per vendicarsi. Per l'epoca, parliamo del 1955, è un film abbastanza cruento e abbastanza violento, stiamo tranquilli, oggi lo possiamo passare anche di pomeriggio senza che qualcuno possa protestare, però all'epoca era abbastanza fortino, è quindi un film di vendetta che fa grande uso del cinemascope, Mann, dicevamo, era la sua prima esperienza in questa nuova lente che permetteva di inquadrare gli spazi del western nel modo migliore, ebbè è un classico che dovete assolutamente non perdere. L'uomo di Larame.